Tutti in campo domani alle 16 c'è la contemporaneità per la penultima giornata del campionato di eccellenza pugliese che deve ancora emettere i suoi verdetti sia in testa per la zona playoff che in coda per quella relativa agli eventuali spareggi per non retrocedere. Al momento c'è una sola certezza il Trani già retrocesso ancora secco di punti. L'altra è quella che il Manfredonia chiuderà primo ma non è ancora dato sapere se basterà per accedere direttamente alla finale. Proprio i sipontini ospiteranno si fa per dire vista ancora l'indisponibilità del Miramare il Real City. Al momento sono otto i punti di vantaggio vantati dalla squadra di De Candia sulla vice capolista Bisceglie attesa invece dal derby contro l'Unione Calcio. Cerca punti salvezza l'Ortanova che ospita il Canosa mentre a San Marco in Lamis si sfidano i locali e il San Severo. Non dovrebbe fare fatica a conquistare i tre punti il Foggia in Cedit di scena sul campo della Vigortrani. Completano il quadro della venticinquesima giornata, le gare tra Borgo Rosso, Molfetta e Mola e quella tra Corato e Polimnia.